Radio Muscletto, rinfresca la tua estate, riscalla il tuo evento, restate con noi, Radio Muscletto Ebbene, bene Scusate, ho chiuso il microfono al posto Ebbene, bene, bene, qui Radio Muscletto come prima cosa, ciao a tutti perché sennò è scortese non salutare Iniziamo con le canzoni Se la trovo Intanto io accendo le risate Come sempre dimentico Non la trovo, ok Sentite Jumbo di Giussi Ferrari Buon ascolto I don't need another reason You're enough for me Let's make some memories E non c'è bisogno di niente Ai, 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 ai Quando la notte ti prende Ai, 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 ai Tra il cielo e la savana Tutto girava Cia un po' buona Dicevi tu Guardando me Guardando me Segui il fiume all'orizzonte Dove l'estate non cambia colore Da più vicino anche il sole Sopra le linee dell'equatore E tu Dimmi che Puoi restare Come se il mare è blu Voglio andarci con te E non c'è bisogno di niente Ai, 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 ai Quando la notte ti prende Ai, 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 ai Tra il cielo e la savana Tutto girava Faccia un po' buona Dicevi tu Guardando me Guardando me Guardando io Sopra le linee dell'esercizio Guardando me Guardando me Guardando me Guardando me Guardando me Guardando me E non c'è bisogno di niente Ai, 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 ai Quando la notte ti prende Ai, ai, ai Tra il cielo e la savana Tutto girava Ci stanno appena accendendo le risate Beh Le risate Perché quel lato computer E' lentissimo Quindi si sta appena accendendo Il programma Per le risate Windows Defender Firewall Ha bloccato No Non devi bloccare Con noi Mi è venuto Windows Defender Firewall Su quell'altro computer Non riesco a togliere sta roba Vabbè Mi è interessato Si Però sono si Mmm C'è qualcosa che non va Consenti accesso Dai E vabbè Dopo metto a posto Allora Allora Domani 27 luglio 2020 Sarà il mio compleanno Quindi Non so se farò Forse una live Alle ore 16 Alle ore 16 Così Ah ok Ancora questo consiglio Vabbè Quindi Domani Sarà un Episodio Episodio speciale Tutto per me Quindi me lo faccio io Beh sempre ho fatto rire gli episodi Ma non importa Quindi Sarà O una live O una registrazione Ma sempre alle ore 16 Quindi Delicato a me E boom Ora andiamo andando con le canzoni E sentirete la head dell'estate di Shade Così intanto metto a po' Oh 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 Ecco Vediamo Funziona Vabbè Sentirete la head dell'estate di Shade Buon Ascolto Ah Ehm Dopo vi leggo Page 22 di Scottex Magazine 18 Però non mi pecchi no almeno così ti dirò Che Non ti conosco e già sento che ti amo Saluta a tutti che adesso ce ne andiamo Lei quest'estate la passa insieme a me La stessa cosa l'ha detto a tutti e tre Ma vabbè Cara fedi Moico La piazza e il mare E tu che quando parli si gira al locale Perché sei diventata La head dell'estate In piedi fino all'altra Vederti ballare E' una musica che fa Con quel vestitino sei davvero super Se posti una foto ti esplode il computer A bordo la bordo le faccio battute Tipo te andiamo a specchiamo un Uber Ma la tutta e se ne va Poi si gira viene qua Dice vuoi provarci ma va Ma quando la porto al bar Vedo che le ride già E penso che mi dirà Che Non ti conosco e già sento che ti amo Saluta tutti che adesso ce ne andiamo Lei quest'estate la passa insieme a me La stessa cosa l'ha detta tutti e se Ma vabbè Cara fedi morito la piazza e il mare E tu che quando balli si gira al locale Perché sei diventata la ride dell'estate In piedi fino all'alba Vederti ballare È una musica che fa Una musica che fa Lei dice voglio stare insieme Io le dico ma mi hai visto bene Lei scoppia a ridere tipo sto male E mi chiede se sono normale Scusami dai sarò breve Una come te in giro non si vede Ho preso una cotta pure con la crema solare Cara fedi morito la spiaggia ed il mare E tu che quando balli si gira al locale Perché sei diventata la ride dell'estate In piedi fino all'alba Vederti ballare È una musica che fa Oh Oh Pura musica che fa Oh 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 Radio Muscletto Infresca la tua estate Riscalle il tuo evento Restate con noi Radio Muscletto Allora Pfff No Dov'è Ok Ora Direttate la camera del telefono Il Dottor Cullocane spiega gli Etruschi Salve Sono il Dottor Cullocane E questo è Super Squats La trasmissione scientifica ha forma di barca Ma che Non è una barca È proprio una trasmissione scientifica Wow Poi Guarda che ti sbagli eh Proprio un'imbarcazione invece Ah si è Wow Vabbè Posso spiegarti gli Etruschi No Odio gli Etruschi Silenzio di tomba Poi Dai Ho anche preparato Dei disegni fatti con i penarelli No Odio anche i penarelli Fine Dopo Più avanti Vi leggerò la pagina 23 Questa è la 22 Poi qui c'è la 23 Risatine Dov'è il mouse Ah eccolo Questo si chiama Risatine Ahahah Com'è che si chiude la telecamera Qua Ok Adesso provo andami a cercare canzoni Vabbè Allora Andiamo avanti con le canzoni Quando le troverò però Aspettate il silenzio di 2m3 Una musichetta di attesa Cerco le canzoni Ok Adesso le ho Ah ecco Sentirete Thing about the way Buon ascolto Ah e vi ricordo che questa canzone finisce così di colpo Quindi se sono lungo da aprire il microfono non è colpa mia Buon ascolto Buon ascolto Mi è venuta come notifica il calendario Mio compleanno domani Mi viene anche il primo Ma è come se non sapessi che è il mio mondo Oh sbaglio Oh sbaglio Non sapevo ancora se il compito Faccio tutto Uno schifo Ma vabbè Ok Metto anche il cecchio verde Ok basta Ah ho dimenticato di dire ma domani dato che il mio compleanno mi faccio con photoshop Un come si dice una bella miniatura una nuova Che vi faccio anche a voi una sorpresina Quindi perderò tutta la domenica del pomeriggio Tutto il pomeriggio e la domenica a fare quella roba lì Eeeh Al posto di riposare la domenica lavoro il triplo che gli altri giorni Perché devo registrare questo Boom dopo fare il live Poi dovrò fare quella miniatura Devo registrare il tutorial eccetera eccetera Ah dopo vi parlo anche del tutorial su photoshop Eeeh in questo momento in questo registrando sono 901 e dentro sono 25 gradi beh di solito erano anche 30 ma anche 31 meglio di così sembra il condizionatore aperto io che ho un condizionatore è praticamente il sole davanti agli occhi adesso non è neanche molto caldo meglio il me pare che sta può finire mi preparo ecco radio muscretto rinfresca la tua estate riscala il tuo evento restate con noi radio muscretto ecco allora vi dico che mercoledì 29 luglio che adesso anzi condivido un momento lo schermo così vi divertite ma sono dov'è il calendario quando ho aggiornato mercoledì 29 luglio quindi è giusto dal domenica 20 però comincerò forse a fare live in ogni caso andate su instagram e seguitemi radio muscretto 178 e lì vi aggiornerò su tutto metterò posta lì ah se vi piace così tanto questo sfondo che è sul computer lo trovate sul mio sito nel senso sfondi aspettate che vi faccio vedere sì sono lento ecco qui dove c'è qua sopra sul computer chiaramente sfondi che adesso sono venuti anche per telefoni e qui trovate tutti gli sfondi che metto io anche per telefoni che strano vedere lo schermo 2000 volte wow adesso andiamo avanti con i canzoni e sentirete quanto troverò whistle florida buon ascolto fischia bambino fischia bambino non me lo ricordo in italiano posso fischia bambino fischia bambino r v go e non l'avevo messa la scorsa volta questa canzone controllo dopo vi faccio sapere ah e dopo da scotterman 18 vi leggo pagina 23 ecco nello scorso episodio non avevo messo la canzone questa qua bambino Grazie per la visione 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 Wow ti seguo su Instagram Posso chiederti una cosa? Dimmi persona Come ti chiami Joe Faccia? I miei agentori erano indecisi da Joe e Bartolo Meglio e 17 Hanno scelte hanno scelto Joe, capito? Grazie, prego, vado via, ciao Fine Fine Ok, adesso, dato che farò il live record, devo tornarmi a mettere la sveglia La sveglia, la sveglia, se non mi dimentico, oltre quella che ho qua ogni giorno Allora, allora, allora le 15, ci vuole un po', metto, boh, 52, etichetta, prepararsi, anzi metto anche, ok Quando scriveremo, automaticamente, ah, dov'è lo messo, non ho oggi, eccola qua, come si modifica? Devo ripetersi solo il mercoledì e la domenica Ok, poi ne faccio un'altra Sempre alle 15, anzi vado così E 59 Così sapete che inizia un minuto prima Fine Che bello Eh, sì, sabato Ok Ora ho messo la sveglia Tornano alla telecamera Ok Chiud... Odio la pubblicità Che salta fuori Come si chiude? Condivisione schermo Poi si stacca finalmente il telefono dal cavo del computer Ora Andiamo avanti con le canzoni Ho dimenticato di mettere che Ok E sentirete Vedete, 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 vedete Pituarmi a condividere lo schermo Guardate, farò delle prove I giardini di marzo I giardini di luglio Ecco Buon... Ascolto Io cosa ho scritto nel programma? I giardini di marzio Dopo lo faccio vedere Un ascolto Anzi Lo mostro adesso Ecco guardate I giardini di Marzio Dov'è il mio dito? Qui I giardini di Marzio Wow Che cose strane che faccio Buon ascolto All'uscita di scuola I ragazzi vendevano i libri Io restavo a guardarli Cercando il coraggio Per imitarli Poi sconfitto Tornavo a giocare Con la mente I suoi tarli E la sera al telefono Tu mi chiedevi Perché non parli Che anno è Che giorno è Il 26 luglio del 2020 9-12 Questo è il tempo Di vivere con te Le mie mani Come vedi Non tremano più E ho nell'anima In fondo all'anima C'è l'immensi Immenso amore E poi ancora Ancora amore Amor per te Filme azzurri Filme azzurri E colline E pragerie Dove accorrono Dolcissime Le mie malinconie L'universo Adesso che mi metto in mente Oggi è domenica Ho dimenticato di dire Buona domenica a tutti Pensavo fosse sabato Comunque Sabato E faccio l'episodio domenicale Quasi impossibile I giardini di marzo Luglio I giardini di luglio E le giovani donne In quel mese Vivono nuovi amori Camminavi al mio fianco Ad un tratto Dicesti Tu muori Se mi aiuti Son certa Che io Ne verrò fuori Ecco Ma non una parola Chiarì I miei pensieri Buongiorno Buongiorno Ah 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 Che bello Far con due microfoni Wow Che bello 2020 Il 26 luglio Alle 9.15 del mattino Wow L'ho fatta bene questa volta Le mie mani come vedi Non tremano più E ho nell'anima In fondo all'anima Cieli immensi E' immenso amore E poi ancora Ancora amore Amor per te Fiumi azzurri E colline E praterie Dove corrono Dolcissime Le mie malinconie L'universo Trova spazio Dentro me Ma il coraggio Di vivere Quello Ancora non c'è C'è Accio Wow Da 27 minuti Che sto registrando Sembrano passate 40 50 Quasi un'ora Sembra Invece Solo da mezz'ora Inito Perché non funziona Radio muscletto Infresca il tuo estate Riscale il tuo evento Restate con noi Radio muscletto Radio musclero La chiusa spero No Ecco Per quello Ok Avete visto prima I giardini di marzo Ho scritto A parte che ho sbagliato Devo scrivere luglio Ok Ho scritto luglio Allora Come vi dicevo Prima Potevo aprire YouTube Che stupidino Vabbè Ora apro YouTube Ok Ecco I tutorial Che l'ho intuito Ok Allora Ho ricominciato A fare tutorial Con Photoshop Unitano Ma sto riprendendo Molto Molto Bene Ho fatto Come scontornare Una foto In Photoshop Parte 2 Che vi lascio Anche in descrizione Di questo video Poi Vi lascio Sempre in descrizione Del video Link Agli sfondi Che me lo Anche scrivo Prima che mi dimentico Poi Ci sarà L'altro tutorial Che uscirà Martedì Quindi tra due giorni Photoshop Immagini Mie con nero Con particolare Colorato Molto bello Qualcosa volevo dirvi Ah si La vendita De muscletto Nel sistema In calendario Come sempre Devo farlo Venerdì Penso Al 24 Si No E non l'ho fatto Devo fare già Al venerdì Quindi ho già Un po' Ripreso I tutorial Poi Ci sarà Dopo questo Immagini Mie con nero Eh Ticola Ticola Non riesco Neanche a parlare Oggi Sarà Come migliorare le foto Tutorial Quindi vi insegno Come migliorare le foto Poi Far l'intro Eccetera Eccetera Poi Ricordo anche di stare A Muesca Adesso Domani 27 luglio Se genera la versione 1.1 Eh Basta La versione 1.0.4 E vi lascio anche Quello in descrizione Quindi Ok Quindi ricordo Di iscrivervi al canale Lascio un bel like Al video Prima metto gli applausi Dov'è il mouse Uuuuh Viva 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 Il muscoletto Namaste A lei Quindi ricordo di iscrivervi al canale Lascia un grande Mi piace A questo video Ehm Condividerlo Con gli amici Familiari Eccetera Poi cosa devo dire Qualse domanda Informazione Commentate Quindi Ciao 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 Ciao